La gente continua a raccogliersi qui in Piazza della Repubblica, continua a portare i fiori, ad accendere i lumini. La piazza è tornata completamente accessibile dopo i momenti di panico che si sono vissuti intorno alle 18 di ieri sera. Erano per fortuna false allarmi e tra l'altro poco fa abbiamo visto giungere qui anche il pianista che aveva già suonato nei giorni scorsi davanti al Bataclan. Ognuno sta cercando di esprimere il proprio dolore in una forma diversa. Su quest'altro angolo di Place de la Repubblica, come vedete dei giovani hanno appena realizzato questo murales, tra l'altro con la Tour Eiffel stilizzata, lo stanno perfezionando. In questi minuti il messaggio è rest in peace. Ed ecco qui invece su quest'altro lato di quelle che apparentemente sembrano le strutture di una cantiere, la scritta Pray for Paris, una preghiera per Parigi e ancora una volta c'è il simbolo della Tour Eiffel stilizzata. L'Islam c'è la paix! L'Islam c'è la paix! L'Islam c'è la paix! Vive la Repubblica! Vive la libertà! Vive la libertà! Vive le musulman! Vive le musulman! Vive le français! Vive la libertà!